Più controlli della Polizia Municipale nelle aree del Centro Storico e in particolare nelle zone della Movida Notturna. E' questo l'esito dell'incontro tra l'assessore al Centro Storico Maurizio Carta, il comandante della Polizia Municipale Margherita Amato e il commissario Benni Cassara per affrontare la necessità di un maggiore presidio per il controllo della qualità e dell'adeguatezza delle attività commerciali in Piazza Verde e in Via Mancheda nonché in sinergia con le forze dell'ordine nei luoghi del divertimento serale sia in Centro Storico sia lungo la costa fino alle borgate di Mondelle e Sferracavallo. La vitalità di questi luoghi sottratti all'antico degrado grazie alle attività gastronomiche, commerciali e per il tempo libero deve essere sempre equilibrato rispetto alla sicurezza degli avventori e dei turisti, nonché al benessere delle persone che vi abitano e che pretendono anch'esse sicurezza e decoro. Il Corpo di Polizia Municipale, nonostante la riduzione di organica a cui è sottoposto da anni, sottolinea Carta, ha assicurato con generosità un impegno aggiuntivo a partire già da oggi a un progressivo impiego di personale, soprattutto nel fine settimana. Si tratta naturalmente di una prima risposta non esaustiva, in attesa di interventi più strutturali che saranno messi in campo successivamente. Inoltre è stato avviato un percorso in collaborazione con SISP e con le altre forze dell'ordine per aumentare l'efficacia del sistema di videosorveglianza della ZTL, sia come misura di prevenzione, sia come misura di indagine per ridurre il pericolo per le persone che vogliono godere della rinascita del centro storico o di altre parti della città. Nei prossimi giorni, con il sindaco Roberto Lagalla, avvieremo un tavolo con la prefettura e la questura per garantire la massima e più efficace sinergia a vantaggio della sicurezza della città. Infine, conclude Carta, su precisa indicazione del sindaco, è stato avviato un percorso deliberativo che consentirà di integrare il personale della Polizia Municipale con volontari adeguatamente formati per ampliare l'efficacia del controllo del territorio e per la pronta segnalazione degli illeciti.